e due polmoni così perché abbiamo preparato un po di combinazioni cattivelle che sicuramente però riuscirete a fare tutti tutti riuscirete a fare il nostro obiettivo è quello di farvi allenare al massimo della sicurezza e darvi risultati pronti ragazzi corsa sul posto 30 minuti di hit stamattina abbiamo spiegato che cos'è un hit allenamento ad intervalli adatta intensità l'intensità la sceglierai tu ok solleva un pochino le ginocchia e respira perfetto stop sciogliti 10 secondi stretch rifacciamo la corsa un po più veloce perfetto subito cerca di richiamare tutti i muscoli che ti serviranno per tutta la lezione addominali e rettori spinali schiera metti il cuore morbido sui piedi e ci siamo quasi respira ok stretch quadricipiti solo pochi secondi ragazzi eh molto dinamico dall'inizio alla fine ta 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 20 secondi di lavoro dieci di recupero jumping jack espirate benissimo forza forza state ancora in tempo per invitare altri amici eh pochi secondi rimani con le gambe di variegate stretch aduttori petto in fuori e rimani là cambio ok usiamo gli adduttori facciamo una corsetta molto lenta eh apro apro e chiudo chiudo lenta che siamo all'inizio ok respira respira siamo a metà del warm up fai un affondo grande sbilancia il peso in avanti ma la schiena è dritta tallone posteriore in appoggio petto in fuori ok di nuovo apro e chiudo molto leggero eh ok ci riesci a scendere un pochino? poco relax tra poco soffriamo adesso volto cambio cambio tutto uguale peso sbilanciato tallone in appoggio allungo colpacci schiena e bicipiti più amare perfetto ragazzi pallone glutei molto rilassato puoi anche camminare e tirare sul tallone ok bene una gamba avanti l'altra indietro con l'avanti tesa scendi e se ci riesci affera la punta ripetiamo tallone ai glutei dai forza 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 abbiamo quasi finito eh tre minuti sono passati respirate ok fermati di nuovo l'altra gamba avanti scendi con calma piegati dall'italiano che continua ad espirare bene ragazzi piedi paralleli walk down su andiamo a preparare le spalle e le braccia faccio uno spoiler no non lo faccio mi faccio soffrire dopo ma l'oreste farà molto di più vieni ok allungati in alto e stop fine warm up abbiamo fatto un inizio veramente dolce ragazzi adesso subito passiamo a l'oreste max due cose vai la musica non si sente tanto ok e la banda copre i piedi ok vai allora tolgo la banda e lascio la parola a l'oreste la musica se ci riesco l'alzo vai ci siamo ok ragazzi andiamo a lavorare con le braccia facciamo una combinazione di pugni e un esercizio di forza quindi faremo jack cross e push up partiamo in guardia resta resta avanti sinistra dietro via appoggi vai jack cross parti piano e aumenta gira le spalle mani sotto le spalle spingi bene chi vuole mani sotto le spalle spingi bene chi vuole può staccare le ginocchia mantieni ancora ok vada 10 secondi cambiamo guardia sinistra avanti sempre jack cross pronti spingi più veloce torna con la mano al volto ok ti avevo push up e sfalzato mano destra avanti mano sinistra dietro ricorda per aumentare la difficoltà puoi staccare le ginocchia spingi 2 1 torniamo alla combinazione jack cross due jack un cross destra destra sinistra pronti vai pro ok ok di nuovo push up balcia spalzate sinistra avanti destra dietro mantieni la schiena prigiladdome vai scendi piano spingi forte mantieni forte l'addome allunga bene la testa 2 1 olè stessa cosa guardia sinistra due jack e un cross spingi forte schiogli vai ruota sempre il vacino chocolate etch ok gli ultimi push up guarda me fai un push up avanza con un ginocchio di nuovo push up cambia se lo fai sulle ginocchia tocca sempre spero aumentare come va benissimo io ho difficoltà a sentire la musica ma bene così allora oreste prova questo disattiva il tuo audio di instagram e sentimi dall'altro perché dalla si sente la musica ok ragazzi da facebook quindi da qui da stream yard io riesco a mandarmi un audio pulito provate però adesso lo rifaccio eccolo eccolo lì adesso dovreste sentire tutti veramente bene si vede se si sente com'è bene ora si non è riuscito ok ok ho riabbiato l'audio allora ragazzi secondo me si stacca quando parli tu certo può capitare oh ragazzi va bene possiamo partire andata vai ok facilissimo primo round apri e chiudi l'abbiamo fatta nel warm up e ne fai solo quattro uno due tre quattro tocca con le mani in pavimento da capo uno due tre quattro tocca e sali uno due tre quattro tocca uno tre quattro vai pausa ok adesso piedi paralleli calci frontali alternati go non è importante l'altezza ma la precisione sollevi il ginocchio e stampa l'avampiede sulle parti basse dell'avversario causa riprendendo il primo esercizio adesso gli apri e chiudi rimangono quattro i drop squat diventano due pronti pronti go uno due tre quattro uno due tre quattro ricorda glominali schiena go go dico ricordati che sono 10 secondi per recuperare ti aspetta di calci sei pronto? vieni paralleli guardi alza via quando tiri un calcio il ginocchio il tuo menino punta dove vuoi colpire le braccia alte, usa uffici addominali, falsa, o aiuto l'una, apri e chiudo, 4, drop squat, 3, andiamo, 3, drop squat, vorrei vederlo veloce, go, vai, stop, ragazzi ancora i calci, ce la fai ad alzare un po' il livello? Ci proviamo? Poco eh, 2 centimetri per su, go, e spira, finisce le braccia, mantieni la guardia, alza la mira, non mollare, e basta, stop, ok, ultimo cardio, 4, apri e chiudo, e 4 drop squat, guarda, velocità, addominali forti, anche dietro, ragazzi, è l'ultima serie di calci, dai il massimo, concentrazione, go, un po' di secondi, alla fine, del secondo round, forza, mamma mia, oddio, rispira, oh, ragazzi, com'è andata? Io sto per morire, ma adesso ce la fai? Eh, facciamo il po' la grande, la grande, ok, sì, l'unica cosa, Max, dammi tu i tempi perché non sento, ok, vai, ok, ragazzi, passiamo ai canci, sempre guardi a destra, sempre mani al mento, gomito, gomito, cancio a destra, cancio a sinistro, colpisci avanti al mento dell'avversario, tappetino vicino a voi, vai, via, dagli ritmo, ruota le spalle, torna sempre con la mano al mento, addome forte, gira, gira, ok, ragazzi, al tappetino, plante laterale, con torsione, facciamo lato destro, vai, versione facile, ginocchio a terra, versione difficile, gambe staccate, vai, ruota bene l'addome, infila il braccio sotto di te, mantienile anche, su, ok, sempre gancio, guardi a sinistra, quindi gamba a sinistra avanti, vai, più veloce, gira, 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 sempre l'altro lato, plante laterale, ricorda di mantenere su il bacino, stringi l'addome, vai, ruota bene il busto, eh, non mollare, forza ragazzi, ok ragazzi, passiamo al montante, da sotto, sempre guardi a destra, colpisci al mento, torna sempre in guardia, spingi, 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 ok ragazzi, seduti a terra, mani piego, vengo su e giù col sedere, piego e stendo anche i gomiti, spingi bene neanche, apri bene il petto, non mollare, non mollare, ancora montanti, guardi a sinistra, fai girare veloce le spalle, su deciso, un bel colpo al mento, occhio ragazzi, lo stesso di prima, con una variazione, vengo su e salgo toccando la caviglia opposta, vai, spingi su, spingi su, spingi i glutei, spingi dalle braccia, non mollare, come va ragazzi? questo mi è piaciuto eh, Max ci sei? wow, io sono sudatissimo, guarda qua, ok ragazzi, gambe di nuovo, attenti perché in questo round ci saranno tante opzioni che ti metteranno in difficoltà soprattutto per l'equilibrio, ve lo dico, vi faccio ricosare un pochino, affronteremo i calci circolari, mi raccomando, ruota bene, immagina di colpire con la libia, o con il collo del piede, ma la cosa più importante, spero che si veda, è ruotare il piede d'appoggio, andiamo ragazzi, pronti? round, four, legs, partiamo col cardio prima, ti ricordi i passetti? avanti e indietro quattro volte, pronti? uno, due, tre, via! dopo questi, mi fai i due affondi veloci, come vuoi, e di nuovo, uno, due, tre, quattro, due affondi, via, uno, due, tre, quattro, due affondi, fai, stop, prepara, metti la gamba destra avanti, quella colpirà per tutti i venti secondi, ok? colpisci e torna, colpisci e torna, colpisci e torna, andiamo, e, ricorda, piede d'appoggio girato, ok? colpisci, e torna, piega sempre la gamba, e stendila, controllo l'arco, sempre la stessa, pam, 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 relax, via, i passetti, sempre quattro, gli affondi su quattro, due destra e due sinistra, ho, due, tre, quattro, quattro affondi, uno, due, tre, e, riparti, eppa, eppa, let's go, tre, four, one, two, tre, four, hop, hop, woo, chi domina, gamba sinistra, la bestana è davanti a te, ci sei? finita la guardia, spira dietro, e, rispira, stampa e tocca, pam, pam, tienila guarda in alto, e gli addominati, e guarda, sempre dovete alzare, pom, chiaro, ah, stop, tutto uguale, gli affondi, diventano sei, eh, andiamo, uh, oh, io passo sempre un secondo prima, perché voglio soffrire, sviluppare potenza e velocità, vai, 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 stop, rifacciamo di nuovo i calci circolari, convincerai, non vincerai, non toccare per terra, guarda, può fare il furbolo che appoggiare, anche se non ti vedo, ogni tanto foggi a terra, e poi parti, parti da, due, poi, tre, poi, ultimo gradio, motta a fondo, 4G, andiamo, ehi, appoggi, ah, 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 è arrivato, finito, vai, 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 appoggi, ultimo round, gamba, sinistra, calcio, circolare, ti guardia, tira, tocco e tornare, la parola sociale, eh, dovessi andare fuori, integrate qui, alluminati, concentrazione, e anche molte, non vincerai mai, ok, perfetto, allora, arriva il nostro quinto round, adesso, addominali, faremo, due minuti a testa, preparati, perché non sono addominali facili, eh, sono addominali, quindi, tosti, bene, papenino, andiamo, io spero che, mi evitate su tutte e due le piattaforme, andiamo, vai, ora, parti, ok, ragazzi, partiamo dai cranchi, facili, ci stendiamo, mani alla fronte, direttamente in chiusura, ginocchia e petto, e giù, facile, pac, si ricorda di tempi, perché io non sento, vai, vai, contrai bene, tira bene il bacino verso di te, guardo sempre il mio ombelico, stop, è andato il primo, e mancano altri tre con la veste, altri tre, lo stesso, solo che le gambe si distendono, tocco la punta dei piedi, guarda, vai, vai, guarda che sono solo, vestite i cosi, spingi su, spingi su, vai, 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 occhio ragazzi, posizione di plank, vado a toccare le mie caviglie, alternando, e ritorno, quando torni, stringi bene i glutei, apri il petto, non mollare, l'ultimo, 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 mountain climb, 20 secondi, sono cattivo, vai, 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 spingi, su, addome, ok tocca a lui ah non era finito non era finito vabbè alla terra alle tempi delle dita e andiamo agli obliqui 30 secondi veloci non mollare forza dai 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 che fossa stop bene girati subito ti ricordi il mountain climber me lo fai con tutte e due le gambe da un lato e dall'altro guarda da una parte e dall'altra forza forza bene l'ultimo dinamico ha un braccio a terra salgo di balmi scendo e risalgo tutto qui let's go cambia sempre braccio vai oddio forza finiamo con un esercizio statico rilassante faccia su ricordi quello che hai fatto con l'oreste rimani su da qui apri apri e resta lì esometria rimani là forte schiena ferma ombelico dentro dai non finirlo non finirlo ti dico io sto 10 9 8 7 6 5 4 3 ok bene allora vedo che l'oreste si è congelato bene vediamo se lui riesce a rientrare se no è troppo bello per essere bene oh vabbè ma non è un problema ragazzi abbiamo finito stretching stretching allora vedo che ancora li è congelato quindi per comodità vado io ok? si no non vedo che c'è non si riprende va bene dai abbiamo chiesto troppo alle nostre misere possibilità fa niente fa niente oh riesci ad entrare? provaci sto provando ok dai va bene io nel frattempo avvio la musica dello stretching va bene va magari partiamo ce la facciamo così siamo in due lì e in uno qui non è un problema finiamola così allora ragazzi com'è andata? bene dai in ginocchio sciogli le spalle adesso mettici le braccia comincia a calmare il battito facendo dei respiri molto ampi grandi l'ultimo è entrato entrato ok adesso con calma siediti sui talloni schiaccia vidiglie quindi allunga i muscoli tibiali e giù le braccia allungare in avanti ti faccia entrare eccolo lì ok mani di mani respira perfetto piano piano di su bene fai un grandissimo affondo avanti braccia braccio opposto sale e anche scendono bene bene un altro braccio dentro l'interno coscia e fai una leggerissima flesso estensione laterale eh estensione poi gli allunghi piano torna una recupera palle palle e travi dietro tutto dall'altro lato cresci in alto e appassali anche braccio dentro due forze opposte perfetto torna lento questa volta lascia il peso sulla gamba inferiore vieni paralleli braccia sulle gambe giù la testa allora il collo ok sali lento premendo dai piedi un espiro grande vieni su vieni su butta fuori l'aria lentamente ok allunga il collo le braccia le mani vede alla schiena e da lì allunga le in basso e poi farle salire senza muovere collo le buste spontanee apri giù grande giro con le spalle ok braccio destro cambio perfetto perfetto dietro e ok allora ragazzi come è andata? go 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 queste sono le lezioni che preferisco sarà per il mio passato sportivo io sudo anche almeno 20 gradi e dire la verità eh però oggi un po' di più guarda per me alla grande mi sento già molto meglio molto più attivo ok quindi aspettiamo nostri feedback come sempre se riuscite a viarci qualche video o foto dei nostri veramente è sempre una cosa di la vita eccomi ecco sì sto bene Paolo sto bene anche io io quando faccio queste cose mi piace troppo mi spacco funzionano mi tengono bello sveglio attivo nonostante l'età grazie a voi bellissimi questi messaggi non riesco a smettere mi vorrei smettere tutti quanti ma sono troppi vi lascio con questa schermata buona serata a domani ancora grazie Paolo